Le Misericordie sono la più antica forma di volontariato nata proprio a Firenze nel 1244. Pochi giorni fa sono stati celebrati i 770 anni di vita del movimento e con noi oggi a Obiettivo Toscana Andrea Delbianco, direttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie. Ecco, allora partiamo proprio da qua, dalle radici. La Confederazione ha solidi radici in Toscana e qui il movimento è fortissimo, ma da qui si è diffusa poi su tutto il territorio italiano. Sì, certo. Buongiorno a tutti anzitutto. Le Misericordie nascono in Toscana nel 1244, hanno in Toscana le radici storiche ma anche il maggiore sviluppo. Oggi in Italia ci sono 689 sedi di misericordia, di cui 309 in Toscana. Quindi da questo si capisce la dimensione anche toscana del fenomeno. Non sono diffuse soltanto in Toscana, sono diffuse appunto in gran parte d'Italia, soprattutto nel centro-sud, con un grosso numero in Sicilia, in Campania, in Sardegna, in Puglia. E poi nel tempo si sono diffuse anche all'estero. Questo è un particolare che forse è meno noto. Le Misericordie nel corso del 1400 sono state scoperte casualmente dal Portogallo. Pare perché i re del Portogallo inviarono in Toscana a studiare il sistema sanitario toscano, che a quel tempo veniva considerato d'eccellenza, una delegazione. E tra le cose che scoprirono, oltre a spedali, a quel tempo si chiamavano, e altro, scoprirono anche le Misericordie, le importarono. Oggi in Portogallo le Misericordie sono anche una potenza, non soltanto dal punto di vista numerico, ma anche economico. E dal Portogallo, come tutti quei paesi che avevano un impero, si sono diffuse anche nel resto del mondo, nelle colonie portoghessi, Brasile, ma non solo. Però ecco, la dimensione delle Misericordie toscane resta comunque ancorata a quel 1244. Associazioni fatte di popolo, fatte di volontari, di gente che cerca di mettersi a disposizione degli altri, senza null'altro chiedere che un bicchier d'acqua, come dicono le antiche Costituzioni della Misericordia di Firenze. Ecco, a proposito di questo sguardo aperto però sul mondo, si faceva accenno al Portogallo e alle ex colonie. C'è dal novembre del 2013 una Misericordia anche a Betlemme. È un segno importante, un segno bello. Qual è lo scopo di questo progetto? Sì, questa è un'iniziativa diretta promossa proprio dalla Confederazione. Noi normalmente non avviamo la Costituzione di Misericordie, lasciamo che nascano dal territorio e al servizio del territorio. A Betlemme abbiamo voluto la Costituzione di una Misericordia per essere presenti nel luogo dove è nato Gesù, dove è nato il Signore, dove è nata le radici del significato del nostro servizio. È una realtà che abbiamo costruito fisicamente, acquistando e poi ristrutturando una palazzina insieme alla Fondazione Papa Giovanni Paolo II di Fiesole. E in questa palazzina abbiamo messo sulla sede della Misericordia dove già da alcuni mesi i nostri volontari si alternano per svolgere servizi sociosanitari in loco, dove stiamo sviluppando la nascita di un piccolo poliambulatorio, dove cerchiamo di fare testimonianza di servizio al prossimo. La cosa che come sempre è bella e in qualche modo paradossale è che in realtà i giovani che tornano non sono più gli stessi e quindi il servizio al prossimo diventa anche un arricchimento enorme per chi ci va. Noi stiamo facendo anche il percorso di formazione per chi va a Betlemme, ma i giovani che tornano non sono gli stessi, hanno un diverso modo di approcciare anche il servizio che svolgono in Italia e questo è forse il risultato più bello. Ecco, a proposito proprio dei giovani, quindi un risultato sicuramente importante questo, 770 anni di storia, tanti risultati positivi, sicuramente non mancheranno alcune criticità. E a proposito dei giovani, è facile oggi trovare dei giovani che vogliono fare i volontari? Ma la domanda è complessa. Abbiamo situazioni su questa macchia di leopardo. Se devo essere sincero, almeno la mia opinione è che non abbiamo enormi difficoltà a trovare volontari, anche tra i giovani, perché in questa realtà sociale, etica, morale, apparentemente disgregata, laddove la misericordia riesce a dare una proposta forte e vera di servizio al prossimo, i giovani si aggregano. Se, chiaro, la dimensione invece si sposta su altri fronti, su interessi di natura più economica, che le nostre misericordia esercitano necessariamente nel servizio alla comunità, ma alle volte rischiano di accentuare troppo, allora vediamo anche una perdita di aggregazione volontaria. Però i giovani nelle nostre associazioni ci sono, le nostre sono associazioni vive, sono associazioni di popolo. Ecco, tra le varie criticità, sicuramente la crisi economica che ha investito tutti e tutto non avrà lasciato indennine anche le misericorde, purtroppo. Qui la situazione com'è? Beh, anche su questo un duplice piano. Da un punto di vista, come dire, interno, è chiaro che il fatto che gran parte del nostro servizio venga risvolto in collaborazione con gli enti pubblici, quando gli enti pubblici non hanno risorse, come è anche in questo momento, anche le nostre associazioni si trovano in estrema difficoltà. Noi stiamo vivendo in alcune realtà elementi di crisi profonda, qui in Toscana in particolare, anche interrogandosi. Noi non possiamo continuare a fare carità nei confronti delle ASL. La nostra è un'azione di solidarietà e caritativa nei confronti della gente, non nei confronti delle ASL. E il sistema del trasporto sanitario e dell'emergenza e urgenza toscano è un sistema, da parte delle ASL, certamente al di sotto di qualsiasi livello in tutta Italia, eppure rappresentando un valore assolutamente notevole. Quindi noi abbiamo situazioni di forte criticità, anche economica, in questo senso. Per le nostre associazioni, per quello che le nostre associazioni devono avere dalle pubbliche amministrazioni. Altro fronte è quello della crisi economica generale. Qui noi ci troviamo con una crescente domanda di aiuto, assistenza, da parte della gente, a cui le nostre associazioni cercano in qualsiasi modo di far fronte, spesso non riuscendoci, perché le forze sono quelle che sono, le energie sono quelle che sono, e anche le risorse sono quelle che sono. Ma soprattutto ci accorgiamo come questa crisi economica, paradossalmente non è andata ad incidere sui comportamenti. E in linea di macroeconomia si è affrontato la crisi economica facendo politiche economico-finanziarie che sono esattamente quelle politiche che ci hanno portato alla crisi economica. Non si è inciso sui comportamenti della gente, non si è inciso sulla capacità di sviluppare solidarietà, capacità di ricostruire tessuti di comunità, di tessuti di coesione sociale. Su questo invece i margini di operatività da parte della nostra associazione sono davvero cresciuti, paradossalmente. Ecco, brevemente, se doveste fare una richiesta alla Regione, in Toscana in particolare, che cosa chiedereste? Di riconoscere il valore del volontariato, non il costo. Guardate, in questi giorni per l'Assemblea Nazionale abbiamo fatto un po' di sintesi di un anno di lavoro. Nel corso dell'ultimo anno, l'albo regionale del volontariato ha registrato 12.000 certificati rilasciati di formazione, cioè 12.000 volontari hanno fatto percorsi di formazione in Toscana, vanno dalle 60 alle 110 ore, per andare a fare servizio alla gente. Significa che c'è, al di là di quanto può costare, un enorme valore del volontariato, in termini di aggregazione delle persone, in termini di educazione alla salute, in termini di educazione e cultura della solidarietà. Questo valore, in qualche modo, deve essere riconosciuto, prima ancora che dal punto di vista economico, anche dal punto di vista culturale e politico. A proposito di valori, c'è un grande evento al quale vi state preparando e che vi darà probabilmente anche un nuovo slancio, quantomeno una boccata d'aria nuova, la visita a Papa Francesco in programma il 14 giugno. Ecco, in quanti sarete a questo appuntamento? Sì, guardi, i numeri purtroppo vanno crescendo di giorno in giorno, però ad oggi sono 19.200 i confratelli provenienti da 380 misericordie che saranno a Roma e saranno affiancati da 320 gruppi donatori di sangue fratres con quasi 10.000 donatori. Quindi sarà un popolo delle misericordie di 30.000 persone e quando dico popolo intendo che non ci saranno soltanto i confratelli, non ci saranno soltanto i nostri correttori, i governatori, ci saranno anche la gente che normalmente visita le nostre associazioni, le frequenta, i familiari, ma anche i nostri assistiti, abbiamo portato là le persone che con noi vivono tutti i giorni un'esperienza di solidarietà. È un bell'incontro di popolo e anche semplicemente l'idea che più di 700 realtà si incontrino tutte quante insieme a far festa e ad ascoltare quello che Papa Francesco vorrà dirci è davvero entusiasmato. Ecco, qual è il significato profondo per voi di questo incontro? Beh, è andare al soglio di Pietro, quindi non è una gita, è un pellegrinaggio ed è cercare di cogliere da quello che il Papa vorrà dirci stimoli, nuova linfa, anche rinfrescare quella linfa che nei 770 anni di storia, dal 1244, come sempre accade, può avere momenti di alti e bassi, può avere momenti di maggior crisi e contrapposti a quelli di maggior vivacità. È ritornare al soglio di Pietro e chiedere a Papa Francesco un indirizzo, una guida, uno stimolo ulteriore. Ringraziamo Andrea Delbianco di essere stato con noi oggi e l'appuntamento con Obiettivo Toscana è alla prossima puntata. Ringraziamo Andrea Delbianco di essere stato con noi